Sono finiti nei guai con la giustizia due sarnesi, un uomo e una donna di 52 e 25 anni e un cittadino marocchino di 24 anni residenti in città. Due anni fa offrirono un rifugio a un nordafricano del Maghreb che aveva contatti con altri suoi connazionali nel paese belga, tutti inquadrati nell'associazione con finalità di terrorismo internazionale. Tra questi figurava anche Khaled Baburi, l'autore dell'attentato, e due poliziotti belgi a colpi di macete. Per quell'amicizia i tre sono stati iscritti nel registro degli indagati della sezione antiterrorismo della procura di Salerno e pertanto sono stati interrogati in tribunale a Salerno ed avrebbero fornito la loro versione dei fatti.